buongiorno come va oggi bene bene qui è buio pesto sono le sette fra poco è natale cosa fa poco è natale ma non si sa passare natale mamma è molto che sappiamo la non c'è niente ecco va bene cosa voglio dire abbiamo i topolini topolini e topoloni non lo so dopo vado a vedere esidio a cercare di entrare dalla grata del bagno che stress e niente dopo andiamo a vedere tutto qua fa buio il pesto ancora e sono le 7.35 l'anno donne va bene vi saluto e dopo vediamo di fare un grattino ciao ragazzi buona giornata